a domenica una bella giornata dio no no oddio no va bene ma troia si è coordinato e ha calciato in porta di prima un gol bellissimo ma non è scodellato ma non è scodellato smacca tutto meno male che non ti sei spostato no meno male non ci è andato di festa no cazzo è l'idea era stupenda poi spettacolare questo bell'artist il portiere non potevo il volo e l'idea era buona peccato anni fanculo ma dovevi fare a triangolo l'uomo di poco fa hanno preso un uomo fuori del portiere nel senso 355 dai vai coglione altusi aspetta come s passano la famiglia mamma mia manovra di football prezzale o ancora ci trova io ci bellissimo ma la mamma che intesa io gli e le aum bellissimo la messa con questa conclusione giro 1706 esecuzione perfetta niente da fare un piccolo bifo da andrò è una mamma mia non dà pietà e v v v v v v v in v v s t occhi di cibo all'aricare l'aricare cazzo dopo aspettavano con un mio pato come si c'è scelta cross market cazzo non quittano ma no ma non esiste e te mi fai godere e farò il partito la mette fuori e questo mi sa che pure vane per stop la palla uscita bello perché eccola il quit il quit